buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere insieme che cos'è il protocollo dei file ave come andare a mettere liquidità all'interno di questo protocollo e come andare anche a richiedere in prestito delle cripto valute ovviamente mettendo liquidità all'interno di un protocollo quindi far sì che le nostre cripto valute vengano prese in prestito noi andremo ad ottenere degli interessi annualizzati diversamente se noi andiamo a richiedere delle cripto valute in prestito dovremmo andare poi a ripagare il nostro prestito con degli interessi annualizzati ma dobbiamo anche stare attenti a certi tipi di valore che devono essere mantenuti per non incorrere in liquidazione anticipate e andare così a pagare anche delle fee di liquidazione ovviamente dopo la sigla ave è un token al rank 28 di coin market cap con un valore attuale di 250 euro un'oscillazione positiva di 1,25 per cento nelle ultime 24 ore con un rifornimento massimo di 16 milioni di token il prezzo più alto di sempre l'ha raggiunto il 18 maggio 2021 di 562 euro il prezzo più basso di sempre novembre 2020 di 21 euro e 92 da quando è stata lanciata sul mercato ha avuto un incremento del 57 mila per cento ave è un protocollo the file open source non custodial che vi permette di guadagnare interessi sui depositi e sui prestiti delle vostre cripto valute come vedete nella home page all'indirizzo ave punto com vi lascerò comunque il link in descrizione ci sono più di 19 miliardi di dollari e questo numero continua a crescere anche davanti ai nostri occhi in modo esponenziale questo protocollo questa piattaforma è già molto popolare diventata molto popolare nei mesi scorsi e lo dimostra ancora di essere all'altezza della sua popolarità con tutta questa liquidità che sta entrando minuto per minuto scorrendo in basso sulla pagina sulla home page vedete che qua destra ci sono quattro diversi mercati ovvero ave market versione 1 ave market versione 2 e se clicchiamo sopra ognuno di essi vediamo più a sinistra cambiare la market size più destra ancora abbiamo il market maker automatizzato dove al suo interno possiamo depositare i token di uniswap e gli lp e per ultimo c'è anche il mercato di polygon polygon per chi non lo sapesse è un layer 2 costruito su ethereum ed è altamente scalabile con transazioni velocissime e costi ovviamente molto molto bassi sto fermandoci un attimo su ave market polygon vedete che possiamo utilizzare 1234567 questi sette asset dove possiamo depositare o prendere in prestito un valore importante è questo deposito epi dove vedete gli interessi che noi andremo a maturare depositando la nostra cripto valuta all'interno di questo protocollo quindi altamente con dai si può guadagnare un 3,13 per cento invece qua a fianco alla voce prestito 4,34 per cento è l'interesse che andremo a pagare prendendo in prestito in questo caso dai vi ricordo che le percentuali sono tutte variabili e annualizzate questo numerino che vedete 1,40 per cento conto che temati che praticamente sono degli incentivi dove utilizzando ave andando a depositare queste cripto valute si va a guadagnare anche un 1,40 per cento di token matic se volessimo ad esempio andare a depositare west di si basterebbe cliccare su deposita e si aprirebbe questa schermata in alto a sinistra abbiamo questo grafico che le più ai variabile dove andiamo a vedere quanto è stato l'interesse nel tempo ed è le piai variabile che si andrà a pagare se chiediamo in prestito e mentre qua nella scena la schermata centrale abbiamo le piai variabile che si va a guadagnare semplicemente depositando usd si in questo momento andremo a guadagnare 2,87 per cento per ultimo abbiamo il rapporto di utilizzo e qua in basso la liquidità disponibile all'interno di questa pool quindi attualmente ci sono 863 milioni di dollari presi in prestito e sono disponibili per essere presi in prestito anche 165 milioni di dollari ed è esattamente quello che poi si va a riprodurre nel grafico di utilizzo ovviamente per poter utilizzare poi il sistema siamo sulla versione ave polygon matic dovete connettere uno dei seguenti portafogli correttamente impostato potete tranquillamente anche usare metamask avevo fatto un video in precedenza per settare metamask anche sulla polygon matic network in questo caso cliccando su browser volete mi prende un automatico metamask come vedete in alto a destra o il mio adres di metamask 0 sdc perché al momento non ne ho all'interno del portafoglio volessimo andare a depositare si clicca su deposita e si apre questa schermata qua abbiamo di nuovo il valore delle utilisation rate la liquidità e l'interesse che andiamo a percepire depositando usdc e anche come abbiamo visto prima che usdc può essere messa come collaterale molto importante capire i dati prestiti valori che sono questi dati 80 per cento 85 per cento quindi il rapporto prestito e valore massimo è dell'ottanta per cento e significa che per 10 dollari avremo 10 dollari a garanzia e significa che possiamo prendere in prestito 8 dollari dal nostro deposito di 10 dollari e qua sotto c'è la soglia di liquidazione che dell 85 per cento quindi vuol dire che se il nostro rapporto prestito valore arriva fino all 85 per cento noi veniamo liquidati e siamo anche costretti ad andare a pagare una fia una penalità di liquidazione che del 5 per cento per questo che sono contrario come sapete all'utilizzo del trading con leva e anche nel prendere in prestito cripto valute qua sotto qualora avessimo un saldo positivo di usdc potremmo depositare usdc all'interno del protocollo bisogna sempre tenere conto che utilizzando matti che bisogna avere del token matic per pagare le fi supponiamo che abbia depositato 10 dollari andando su my dashboard qua io avrei i 10 dollari gli interessi che sto maturando e la possibilità di disattivare o riabilitare il collaterale qualora la volessimo usare come collaterale quei 10 dollari e il tastino prelievo per andare a prelevare gli usdc se andiamo in alto alla voce stake che purtroppo non si sta caricando noi possiamo andare a mettere in staking il nostro ave ovviamente però andrà a fare lo switch su rete e tirium quindi è necessario andare sul mercato ave market versione 2 su rete tirium l'altra funzione se andiamo dall'altra parte abbiamo visto come depositare la nostra cripto valuta dai per metà la disposizione di chi vuole richiedere un prestito ma volendo potremmo essere noi a voler chiedere un prestito e dove si va si va su prestito ovviamente o borro questa è la percentuale che noi andremo a ripagare clicchiamo su sdc come vedete qua alla voce per richiedere un prestito mi chiede di mettere un collaterale la garanzia ricordando che il rapporto massimo prestito valore che possiamo perdere era dell'ottanta per cento quindi significa che nei dieci dollari che virtualmente abbiamo depositato prima potremmo in questa schermata prendere in prestito fino a un massimo di otto dollari come ho detto prima a me non piace prendere in prestito cripto valute ovviamente questo non è un consiglio finanziario vi invito a studiare veramente la materia e soprattutto i rischi che potete avere nel fare questi tipi di operazioni e così che si va poi a prendere in prestito convalidando la trattata nella nostra cripto valuta e andremo a vedere il prestito preso all'interno della nostra dashboard la parte governa se noi possiamo mettere in delegate i nostri asset in questo caso ave possiamo selezionare il tipo voti in power o proposition power e da lì andiare a proporre degli interventi all'interno del protocollo delle millerie oppure andare a votare migliori e l'implementazione che hanno messo a voto gli altri utenti della community oppure gli sviluppatori stessi bene ragazzi siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento spero che il video sia stato di vostro gradimento e di facile comprensione vi invito a prestare moltissima attenzione qualora decidiati di andare a prendere in prestito delle cripto valute e o a fare del trading con leva perché se non usate i dovuti accorgimenti potreste veramente bruciarvi il wallet mi raccomando attenzione iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare il mio lavoro lasciatemi un like commentate i miei video ma soprattutto iscrivetevi alla community telegamma trovate il link in descrizione i video in alto a destra sul mio canale per non perderci di vista ma soprattutto per riuscirvi a dare l'assistenza di cui avete bisogno se avete le domande a porci è più facile rispondervi e più immediato a rispondervi sulla community telegram dove ci sono tantissimi utenti anche altri amministratori piuttosto che a volte attendere la mia risposta su in coda ai video perché come ben sapete lavoro comunque in un negozio 40 ore alla settimana e alla sera quando torna a casa mi metto a montare video studiare gli argomenti dei giorni successivi molte volte faccio fatica a rispondere a tutti i vostri commenti alle vostre richieste ovviamente vi rispondo con piacere quindi continuate pure a commentare i miei video e a farmi le dovute richieste ma se avete bisogno di assistenza immediata e più rapida contattateci sulla community telegram ciao a tutti grazie a tutti